Ogni anno il premio letterario internazionale L'Aquila Biper, intitolato all'Odomia Bonanni, si caratterizza per la presenza di un ospite d'onore. Quello di quest'anno è il poeta spagnolo Alfonso Bresmes, nato a Madrid. Torna un poeta europeo, così come è tornato il coinvolgimento delle scuole e il ritorno in carcere con la sezione dedicata ai detenuti. Le sue poesie sono state raccolte in numerose pubblicazioni in tutto il mondo. Per il poeta è la prima volta all'Aquila e si vede che è una città in fermento, ha detto. La poesia ci ricorda che dobbiamo essere umani relativamente alle guerre che stanno dilaniando il mondo. La poesia potrebbe diventare, potrebbe essere un ponte fra i linguaggi, e quindi anche fare in modo che la poesia possa essere qualcosa che ci renda ancora più umani è comunque sempre necessaria, perché appunto, come diceva Orwell, la poesia ci fa essere umani, ma fondamentalmente l'importante è che uno diventi e sia sempre più umano e che possa mantenersi tale. Per la Biper il premio è una vetrina internazionale di eccellenze. C'è tanto bisogno di poesia, bellezza, arte e cultura. Questo è un premio letterario internazionale che conferma la sua valenza al di là del territorio aquilano, abruzzese. Quindi anche quest'anno abbiamo un ospite internazionale di rilievo e siamo ben lieti e felici di averlo con noi. Per il comune, presente alla conferenza stampa di presentazione dell'ospite d'onore, il vice sindaco Raffaele Daniele. È bellissimo, ringrazio la Biper per animare questo importante premio. Quest'anno un ospite torna a essere europeo, più vicino a noi, Alfonso Bredsmes, e devo dire che la poesia portata nelle scuole, quindi quando i nostri giovani iniziano a conoscerla, iniziano a apprezzarla, questo apre molto la loro mente e diventeranno poi i grandi uomini del domani che animeranno il loro territorio e veramente porteranno tanta sensibilità. Grazie. Grazie. Grazie.